Truffa aggravata ai danni dello Stato e falsa attestazione di presenza in servizio. Sono queste le accuse mosse da parte della Guardia di Finanza di Catanzaro nei confronti di un operaio forestale dell'azienda Calabria Verde, l'ente strumentale della Regione Calabria, preposto allo svolgimento di interventi sul territorio nel campo della forestazione e della difesa del suono, perché anche nel periodo in cui si trovava i domiciliari con il permesso di uscire di casa proprio per recarsi al lavoro, invece non lo faceva. Con lui sono indagate altre tre persone. Il provvedimento emesso dal GIP presso il Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica prevede anche il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie fino al raggiungimento della somma di circa 93.000 euro.